amici di Radio News ventiquattro ben trovati e bentornati qui da Rosanna Vivacco on Air oggi ci troviamo in Friuli Venezia Giulia e parliamo di pasticceria ne parliamo assieme al signor Roberto Lestani pasticcere ma molto di più intanto la saluto ben trovato su Radio News ventiquattro on Air buongiorno a tutti voi allora signor Roberto lei è presidente dell'associazione pasticceri internazionali la sua quindi oltre ad essere una competenza di pasticceria è comunque una funzione che lei svolge all'interno di un associazione internazionale ci vuole un attimino parlare di quello che lei diciamo fa in questa associazione e dei pasticceri che sono in questa associazione allora io rivesto il ruolo da di presidente nella federazione internazionale pasticceria gelatteria cioccolateria però quello che faccio io volevo mettere appunto il gruppo perché da soli fondamentalmente non si fa assolutissimamente niente quindi la federazione è strutturata nasce in Italia però è strutturata anche all'estero abbiamo diversi paesi che aderiscono alla federazione con delle loro delegazioni queste delegazioni cosa fanno quello che fa un po' la federazione organizzano corsi per portare sempre più in alto la professionalità e inoltre anche come federazione internazionale organizziamo diversi eventi a livello mondiale l'ultimo che abbiamo fatto appunto il campionato del mondo del panettone a Roma, ma abbiamo anche i campionati del mondo del cake design e di pasticceria. Il prossimo anno, 2021, i campionati del mondo del tiramisu. Ecco, a riguardo volevo proprio evidenziare una cosa molto importante, parlare delle eccellenze della pasticceria, parlare del made in Italy. Perché come federazione ci rivolgiamo a 360 gradi, quindi ai giovani e anche ai professionisti. Ai giovani lavoriamo attivamente con il Ministero dell'Istruzione. È stato fatto appunto un decreto dal Ministero, il decreto 657 del 9 giugno 2020, quindi una cosa molto recente, in cui come federazione dobbiamo andare a valorizzare le eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole. E questo per noi è motivo di notevole orgoglio e di istituzionalità. Perché come ne andiamo a valorizzare queste eccellenze, questi ragazzi? Con il campionato italiano degli istituti alberghieri. Ma parliamo come federazione anche ai professionisti. All'interno appunto della federazione c'è l'equip eccellenze italiane di pasticceria, gelateria, cioccolateria, che sono dei professionisti riconosciuti nel panorama italiano, appunto dalla stessa federazione, perché utilizzano materie prime di altissima qualità ed hanno anche una grandissima professionalità. Quindi volevo anche appunto evidenziare il comparto del cake design, che grandissimi professionisti che ne fanno parte e grandissime professioniste. Quindi come federazione andiamo a parlare a 360 gradi. Ci interessa fare unione tra i giovani e anche i professionisti per rinalzare appunto quello che è il livello della pasticceria a livello proprio globale. Ecco, adesso abbiamo, ripeto, fatto appena il campionato del panettone. Stiamo già facendo le selezioni per i campionati del mondo del prossimo anno in Giappone, Australia, Cina, ma anche in Europa abbiamo delle delegazioni appunto molto attive che ogni settimana si sentono con i delegati internazionali e quindi c'è tutta una rete, c'è un sistema che porta avanti questo settore. Beh, lei in realtà questa federazione, la FIP, Federazione Pasticceria, è per lei molto importante, si vede da quello che ne sta dicendo insomma. Ma come persona poi a lei ha partecipato anche ovviamente a delle manifestazioni e raggiungendo risultati eccellenti direi. Ce ne vuole un attimino parlare? Sì, ho diversi concorsi realizzato nella mia carriera. Quello più importante è la vittoria appunto dei campionati del mondo di pasticceria nel 2004 dove in questi campionati ci vuole un anno di allenamento prima da arrivare alla fase finale. Consistono nel realizzare prodotti non solo di degustazione ma anche artistici. Poi un altro riconoscimento che ho ottenuto di cui ne vado anche orgoglioso appunto e ho avuto dal capo dello Stato il riconoscimento quale cavaliere al merito della Repubblica Italiana appunto per aver svolto diversi concorsi e aver portato un po' il Made in Italy nel mondo. Insomma, risultati come dicevo prima eccellenti. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e quindi dobbiamo concludere questa intervista. Però prima di lasciarla volevo ricordare i suoi social che sono per quanto riguarda Instagram International Federation underscore Pastri e invece per quanto riguarda Facebook FIP Federazione Pasticceria dove magari possiamo condividere questa nostra intervista e rivederla. Signor Roberto, vuole aggiungere qualche altro contatto che può essere utile ai nostri radioascoltatori? Ma per i nostri radioascoltatori oltre ai social abbiamo un sito molto attivo federazionepasticceri.it nel quale svolgiamo appunto corsi di pasticceria che sono un po' indirizzati a tutti e abbiamo anche un'app, l'app FIPGC che si può tranquillamente scaricare. Perfetto. Salutiamo a questo punto il nostro ospite Roberto Lestani e lo ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni. Ringrazio voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. E voi radioascoltatori restate ancora con noi per nuove interviste e nuove storie sempre sui ai nostri microfoni.